In primo Giovanni leggiamo che i comandamenti di Dio non sono gravosi. E uno dei motivi per cui non sono gravosi è perché Dio non ci dà solo i comandamenti, ma ci spiega motivi per cui ubbidire. Quindi, mentre è importante conoscere i comandamenti, è quasi più importante conoscere i motivi. Conoscere i motivi e ricordare i motivi, ricordare i benefici, ricordare quello che abbiamo in Cristo. Infatti, se noi non teniamo in mente i benefici che abbiamo in Cristo, cadremo. Tante persone non vogliono Cristo. Dicono, no, no, non voglio Cristo. Perché? Perché loro vedono i comandamenti. Quelle persone vedono i comandamenti. Eh, no, no, perché non capiscono i benefici. È come prendere un bambino cieco dalla nascita, che non capisce cosa vuol dire vedere. E arriva un dottore, guarda, questo tipo di cecità posso guarire, ma richiede un intervento doloroso. E i genitori dicono al bambino che ha otto anni, senti, c'è un dottore che può farti un intervento, ti farà dolore, ma vedrai. Ma lui non capendo il beneficio. Eh, no, 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 non voglio dover soffrire. Perché lui guarda solo al peso, non ha i benefici. E tanti non credenti non vogliono Cristo perché non capiscono i benefici. E tanti credenti non guardano ai benefici e perciò vedono i comandamenti, sono, oh, sono come se fossero gravosi. Non sono gravosi. Noi siamo in filippesi, siamo in capitolo 2. E in capitolo 2 ci sta dando, Dio ci sta dando delle motivazioni per cui dovremo camminare in santità. Cioè non ci dà solo comandamenti, e abbiamo già avuto alcuni comandamenti, ma ci dà delle meravigliose motivazioni per cui dovremo obbedire a questi comandamenti, che ci stimolano. Vorrei elencare le motivazioni che abbiamo già visto in filippesi 2. Per esempio, in versetto 1, parla dei benefici che abbiamo in Cristo. Leggo filippesi 1 e 2. Prima ci sono le motivazioni, i benefici, poi il comandamento. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto di amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. i benefici, e lui dice qualche, per farci dire no, non solo qualche, tanta, tanta consolazione in Cristo, tanto conforto di amore, tanto comunione di spirito, tanta, e grande tenerezza e compassione. Allora, alla luce di quello, vivete con uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. Poi, nei versetti 5 e 8, Paolo ci dà come immensa motivazione il sacrificio di Gesù Cristo per noi, che la sua incarnazione era un'immensa umiliazione per andare alla croce. Per noi, leggo, questo beneficio, questo sacrificio da parte di Cristo, versetto 5. Perciò, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Che fortissima motivazione per noi di avere lo stesso sentimento di Cristo, cioè pensare a quello che Gesù Cristo ha fatto per noi, il suo sacrificio per noi. Certamente, quando io considero la gravità del peso del mio peccato, la condanna eterna, tormento costante, e che Gesù ha subito la condanna, per me, certo, mi stimola. I comandamenti non sono gravosi se sto pensando al sacrificio di Gesù Cristo. Poi, nei versetti 9 ad 11, c'è una terza motivazione per vivere una vita di santità e di ubbidienza a Dio. Questo è che Gesù Cristo ritornerà per giudicarci e dobbiamo rispondere a Lui. Questa è una terza motivazione. Leggo Filippesi 2, 9 ad 11. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni genocchio dalle creature celesti, terrestri e sottranie, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. In questi versetti, quando Paolo descrive il fatto che ogni genocchio si piegherà davanti a Gesù Cristo e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, di cosa sta parlando? Quando Gesù verrà e noi tutti lo vedremo e ognuno di noi sarà costretto, chi volontariamente, chi costretto ad inginocchiarsi davanti a Gesù Cristo, a confessare che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Questo è il giudizio finale. Saremo noi ad inginocchiarci davanti a Gesù Cristo. Saremo noi a confessare Lui insieme a tutti gli altri uomini, donne, bambini mai vissuti. Giudizio finale. E dovremo rendere conto a Gesù. E quindi il fatto che dobbiamo e sappiamo e Dio ci dichiara più volte che dobbiamo presentarci davanti a Gesù Cristo diventa un'immensa motivazione di come viviamo. in secondo Corinzi capitolo 5 e Paolo parla di questo giudizio e come il fatto di sapere di questo giudizio dovrebbe stimolarci, guidarci di come viviamo tutti i giorni. Leggo secondo Corinzi 5 9 ad 11 Perciò ci studiamo di essere lì graditi sia che abitiamo nel corpo sia che partiamo adesso. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno diceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto sia in bene che in male. Conoscendo dunque il timore del Signore persuadiamo gli uomini e siamo conosciuti da Dio. Ora io spero di essere conosciuto anche dalle vostre coscienze. Fratelli e sorelle e chi non è fratello e sorella o sorella dobbiamo comparire davanti a Gesù Cristo. Dobbiamo comparire davanti a Gesù Cristo per essere giudicati per ricevere la retribuzione delle cose che abbiamo fatto in questi anni nel corpo in base a quello che abbiamo fatto sia in bene che in male. Perciò dobbiamo avere timore del Signore. Dobbiamo capire che la cosa più importante della vita è di non dover vergognarci quando ci troveremo davanti a Gesù Cristo. Dall'altro lato non solo dobbiamo avere timore del Signore ma possiamo avere immensa gioia perché se noi viviamo tenendo in mente che appareremo davanti a Cristo se noi viviamo umelmente con mansuitudine confessando i nostri peccati che bel giorno sarà che bel giorno sarà quando il nostro Signore arriverà non ci saranno più la lotta con il nostro peccato non ci saranno più cadute non ci saranno più prove e dubbi e difficoltà quindi qui in Filippesi 2 abbiamo tre motivazioni prima perché abbiamo ricevuto conforto comunione consolazione tenerezza e compassione due perché Cristo si è sacrificato per noi e adesso tre perché ogni ginocchio si piegherà perché noi ci troveremo davanti a Gesù Cristo e questa è una terza motivazione quindi voglio leggere di nuovo Filippesi 2 da 9 a 13 e che Dio ci aiuti a comprendere la realtà del ritorno di Gesù Cristo perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti terrestri e sottranie e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre perciò miei cari come mi avete sempre ubbidito non solo quando ero presente ma molto più ora che sono assente compite la vostra salvezza con timore e tremore poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo veni placido il versetto 12 ci insegna come vivere alla luce del ritorno di Gesù Cristo che verrà per giudicarci voglio leggere ancora 12 perciò miei cari come mi avete sempre ubbidito non solo quando ero presente ma molto più ora che sono assente compite la vostra salvezza con timore e tremore questo versetto inizia con perciò ricordate che perciò è una parola molto importante perché lega quello che viene dopo con quello che è stato detto prima in questo caso il perciò si riferisce al fatto che Gesù ritornerà per giudicare detto nel fraso ogni genocchio si piegherà ogni lingua e confesserà quindi visto che ogni genocchio si piegherà noi ci giocheremo davanti a Gesù quando viene per giudicarci per quello che abbiamo fatto nel corpo perciò viviamo come Paolo dice in questo versetto dobbiamo sempre ricordare il perché Dio non ci dà comandamenti senza legarli a motivazioni e voglio dare un consiglio per chi cresce un figlio quando solo diciamo do comandamenti ai figli senza legarli diventa molto pesante per loro diventa molto pesante è buono legare non con premi se mi obbedisce ti darò un premio no non sto parlando di quello ma sto parlando di non solo fare regoli gettati così ma di farli in base a tutta una vita allora se tu non tieni in mente i benefici e in questo caso il ritorno di Cristo non avrai timore di Dio e vivrai male al meglio e scoprirai di non essere salvato al peggio allora alla luce del fatto in base a questo versetto alla luce del fatto che Gesù Cristo ritornerà e compareremo davanti a Lui per essere giudicati come dovremmo vivere prima di tutto in questo versetto notate che Paolo dice come mi avete sempre ubbidito e poi dice compite la vostra salvezza Paolo sta mettendo insieme ubbidire a Lui come Apostolo quindi agli comandamenti di Dio a compiere la vostra salvezza Paolo sta legando dice come mi avete sempre ubbidito compite la vostra salvezza questo è fondamentale capire il modo di compiere la nostra salvezza e vedremo cosa vuol dire quello è di ubbidire ai comandamenti di Dio quest'ubbidienza non è quello che ci salva l'ubbidienza non ci salva dimostra che siamo salvati l'ubbidienza ai comandamenti di Dio è un frutto della vera salvezza senza l'ubbidienza non c'è questo frutto uno che non cammina in ubbidienza ai comandamenti di Dio non può dire con ragione che è salvato la fede senza re opere è una fede morta che non salva la vera fede che salva produce le opere e l'ubbidienza è la prima opera della fede Abrahamo credete a Dio e lì fu messo in conto come giustizia poi così dice in Giacomo di Abrahamo credete in Dio perciò quando Dio comandò a lui porta il tuo figlio l'unico figlio che tu ami per sacrificarlo a me cosa fece Abrahamo ubbidisse giusto proprio ubbidì subito presto la mattina si alzò per portare il suo figlio perché la vera fede produce una vita di ubbidienza perfetta no ma costante è lo stile di vita quindi la vera salvezza non viene dall'ubbidienza la vera salvezza produce una vita di ubbidienza l'unica fede che salva è una fede viva non una fede morta la fede morta non produce frutto opere ubbidienza la fede vive produce quello e quindi Paolo dice come mi avete sempre ubbidito compite la vostra salvezza leggo ancora versetto 12 perciò miei cari come mi avete sempre ubbidito non solo quando ero presente ma molto più ora che sono assente e mi fermo là qua è importante notare che Paolo parlava di come avevano ubbidito quando lui era presente ma adesso li esorta ad ubbidire ancora di più che lui non c'è e qui c'è una lezione molto importante per noi è una grazia da Dio quando Dio ci mette nella vita persone che possano spronarci incoraggiarci stimolarci nel nostro cammino questo è da Dio ed è da ascoltare le persone che Dio mette nella nostra vita quando ci parlano cercano di spronarci di incoraggiarci di stimolarci di riprenderci di ammonirci esortarci è da ascoltare è un grande dono da Dio però è anche essenziale e fondamentale che ogni vero credente si impegna a camminare in obbedienza per conto suo anche quando non ci sono queste persone nella vita cioè quando Paolo era lì con loro in un certo senso posso immaginare la scena Paolo capendo chi era Paolo tutti i giorni esortava tutte le volte che si vedevano lui esortava esortava posso immaginare che in un certo senso era medio facile pensare a Cristo perché c'era sempre questo qui che ti parlava di Cristo ti esortava ma adesso che non c'era più Paolo non c'era il suo stimolo il suo incoraggiamento le sue esortazioni dovevano impegnarsi ancora di più per conto proprio era essenziale di fare questo per non fare naufragio e per quanto gli stimoli che possiamo ricevere da altre persone sono buoni è un dono da Dio e come Dio intende la Chiesa vive perché come Chiesa se ci troviamo parlando di tutto che bello stare con i fratelli e le sorelle ma stiamo parlando di Dio stiamo stimolandoci quello è quello che Dio intende ma quando non c'è quanto è fondamentale avere autodisciplina di stimolarci da soli ad andare avanti nella vita cristiana quando ci sono e quando non ci sono stimoli un commento per chiunque cresce un figlio un figlio che cresce senza autodisciplina nelle piccole cose come mangiare a che ora arriva a tavola a colazione che resta perseverante a fare i lavori quando sono l'affare uno che non ha autodisciplina se Dio salva quella persona avrà molto più difficoltà avere autodisciplina perché si può già addestrare la carne prima della salvezza con l'aiuto dei genitori cioè non è che il momento che uno viene salvato che il suo carattere cambia quello che è è quindi una persona che con ottima crescita ha imparato a dire no alla carne avrà molto meno difficoltà come credenti quindi questo è importante capire quindi fondamentale che impariamo a ubbidire a Dio quando ci sono tanti stimoli e quando non ci sono infatti lui dice ora che non ci sono ubbidite molto di più molto di più la domanda che ci lascio con questa domanda prima di andare avanti è ci stiamo impegnando molto di più con o senza stimoli esterni per compiere la nostra salvezza ci invito a valutare ognuno la propria vita allora voglio leggere di nuovo il versetto 12 perciò miei cari come mi avete sempre ubbidito non solo quando ero presente ma molto più ora che sono assente compite la vostra salvezza con timore e tremore cosa vuol dire compiere la nostra salvezza cioè Gesù Cristo ha compiuto la nostra salvezza quando è morto risuscitato allora in che senso dobbiamo noi compiere la nostra salvezza visto che Gesù ha già compiuto tutto ed è giusto dire che Gesù ha compiuto tutto da un certo punto di vista allora consideriamo la parola compiuto quando Gesù era sulla croce alla fine delle tre ore che aveva subito l'ire di Dio che serviva le seconde tre ore lui gridò in Giovanni 19 30 troviamo questo è compiuto ve lo leggo quando Gesù aveva preso l'accetto disse è compiuto e che nato il capo rese lo spirito allora la parola compiuto in quel versetto è una parola greca che che vuol dire spesso perfetto viene tradotto completo si usa per debiti pagato completamente un uomo maturo completo in tutti gli aspetti della vita assomiglia a Cristo invece qui in Filippesi 2 la parola compiuto compiere è tutta un'altra parola non ha niente a che fare con quella parola due parole completamente diversi questa parola in Filippesi vuol dire impegnarsi per arrivare ad un certo risultato l'altro parla di perfezione e completezza questo parla di impegnarsi per arrivare ad un certo risultato quindi due parole completamente diverse quindi tornando al nostro brano Filippesi 2 12 Dio ci comanda di impegnarci a portare a completezza la nostra salvezza ma in che senso dobbiamo impegnarci noi a completare la salvezza visto che Cristo ha già compiuto tutto sulla croce allora Gesù Cristo ha pagato il debito per i nostri peccati per mezzo di Gesù Cristo siamo pienamente giustificati con la sua giustizia per mezzo di Gesù Cristo abbiamo libero accesso a Dio abbiamo un nuovo cuore però la vera salvezza produce la santificazione da un lato la Bibbia dice Dio ci santifica ma dall'altro lato ci esorta costantemente a santificarci la vera salvezza sempre produce la santificazione la vera salvezza produce sempre un cuore cambiato che persevererà nella salvezza non c'è salvezza nella persona che non persevera Colossesi 1 21 a 23 Paolo scrive e voi stessi che un tempo eravate estranei e nemici nella mente con le vostre opere malvagie ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte per farvi comparire davanti a sé santi irreprensibili e senza colpa sei puri perseverati nella fede essendo fondati e fermi senza essere smossi dalla speranza dell'Evangelo che voi avete udito e che è stato predicato da ogni creatura che è sotto il cielo e di cui io Paolo sono divenuto ministro allora quel brano parla della salvezza compiuta da Gesù Cristo però solamente per chi persevera nella fede essendo fondati e fermi senza essere smossi dall'esperanza dell'Evangelo quindi è essenziale fa parte della vera salvezza di perseverare di perseverare questo perché quando Dio salva una persona non quando uno dice di credere e cammina per conto suo ma quando Dio rinnova da un nuovo cuore quella persona avendo un nuovo cuore persevera nella salvezza e allora compiere la salvezza quello che stiamo leggendo in Filippesi 2.12 vuol dire impegnarci nella santificazione perché senza la santificazione nessuno vedrà Dio ovvero nessuno sarà ammesso in cielo nella presenza di Dio non c'è salvezza senza la santificazione vi leggo Ebrei 12.14 la parola procacciare qui è una parola molto forte che descrive uno che sforzatevi di rientrare nel cielo questa è una parola fortissima leggo procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore notate che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore vedere il Signore in modo di dire sarà salvato in altre parole se uno non viene santificato se non cresce nella santificazione il frutto nella sua vita indica che quella persona non è veramente salvata non importa quello che dice no no io sono salvato se non c'è santificazione non c'è frutto della salvezza può essere cosiddetto salvato da 30 anni ma non cambia nulla non cambia nulla senza la santificazione nessuno vedrà Dio non c'è salvezza senza la santificazione allora riassumendo la salvezza dipende 100% sull'opera di Gesù Cristo è tutta un'opera di Cristo però la vera salvezza produce sempre un impegno nella persona salvata a crescere nella santificazione allora il nostro impegno non è mai perfetto non è mai costante non è una riga che va solo su è una riga con cadute ma è una riga il re Davide andava su e poi ha avuto una caduta terribile ma poi cosa fa dopo in Salmo 51 si ravvede e ha ripreso noi dobbiamo impegnarci con tutto il nostro cuore a compiere la nostra salvezza a rendere chiaro che siamo veramente salvati in secondo Pietro troviamo un comandamento capitolo 1 di impegnarci nella vita cristiana per rendere sicura la nostra vocazione e la nostra elezione ovvero la nostra salvezza sicura non a Dio il Signore riconosce quelli che sono i suoi ma si ritraga dall'iniquità a tutti coloro che nomino il nome di Cristo con lo secondo di molti o due ma in secondo Pietro 1 versetto 10 non possiamo salvarci ma possiamo rendere sicura la nostra salvezza leggo secondo Pietro 1 10 perciò fratelli sforzatevi sempre maggiormente di rendere sicura la vostra vocazione e relazioni perché facendo queste cose non inciamparete mai se uno dichiara di essere salvato però non si sente il dovere di impegnarsi se non ha timore e tremore se vive senza un vero impegno alla santificazione non ha frutto di vera salvezza infatti in realtà l'evidenza visto l'atteggiamento di prendere sul leggero la sua salvezza è un frutto non buono non è di salvezza quello perciò io voglio esortare ciascuno di noi che si nomina credente a non prendere per scontato la salvezza ma io sono salvato ma tu non stai lasciando quel peccato ma comunque sono salvato quella è la massima distoltezza vedendo l'opera di Cristo per noi sapendo che Gesù Cristo ritornerà per giudicarci e dovremo rendere conto per la vita esortare ciascuno ad impegnarsi con tutto il cuore a crescere nella santificazione per avere chiaro frutto che Gesù Cristo ha cambiato il cuore ricordate l'ubbidienza l'impegno non produce la salvezza l'impegno dimostra la salvezza non siamo salvate per le opere ma la salvezza produce opere un commento quanto è importante la salvezza senza la salvezza l'anima viene persa eternamente in quel caso tutti i vantaggi di questa vita non giovano nulla se uno dice di avere la salvezza ma non c'è frutto che sia vero se la sua cosiddetta fede non produce una vita trasformata quella persona non dovrebbe pensare di essere salvata la vera salvezza produce un cuore nuovo che produce un cuore che persevera e questo brano è un'esortazione di perseverare e i veri salvati ascolteranno voglio leggere ancora versetto 12 dove Paolo spiega con quale cuore dovremo e dobbiamo impegnarci molti di più a compiere la nostra salvezza leggo versetto 12 perciò miei cari come mi avete sempre ubbidito non solo quando ero presente ma molto più ora che sono assente compite la vostra salvezza con timore e tremore notate che Paolo ci comanda a compiere a compiere la nostra salvezza con timore e tremore inizio da capo notate che Paolo ci comanda a compiere la nostra salvezza con timore e tremore e questo riscrive quello che è il cuore di un vero credente quanto spesso la Bibbia ci parla di timore di Dio poche volte o costantemente un frutto della vera salvezza è di avere timore di Dio per avere timore di Dio dobbiamo comprendere parzialmente perché è assoluto la santità di Dio e quanto i nostri peccati sono terribili dobbiamo capire che ci troveremo al giudizio dobbiamo tenere in mente che la santità di Dio odia il peccato e dobbiamo ricordare che non dobbiamo mai prendere la salvezza con leggerezza per esempio conosciamo bene quello che Gesù dichiara in Matteo 7 21-23 quanto sarà terribile per coloro che prendono per scontato di essere salvati quando non c'è frutto leggo le parole di Gesù Cristo parlando del giudizio finale non chiunque mi dice Signore Signore entrerà nel reino dei cieli ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli molti mi daranno in quel giorno Signore Signore non abbiamo noi profetizzati nel tuo nome e nel tuo nome schiacciato demone e fatte nel tuo nome molte opere potenti e allora dichiarano loro Io non vi ho mai conosciuti allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità queste persone erano convinti di essere salvati ma su quale base su quale base comprendiamo da quello che dicono che presumevano di essere salvati in base alle grandi opere che avevano compiuto si capisce che ponevano la loro fiducia non nell'opera di Cristo ma nelle loro opere non abbiamo noi profetizzati nel tuo nome e nel tuo nome schiacciato demone e fatte nel tuo nome molte opere potenti ci sono molti oggi che dicono di fare queste cose e non sono nemmeno salvate il senso di avere timore e tremore nel compiere la salvezza e di riconoscere che serve frutto per avere chiara evidenza della salvezza e solo avendo quel frutto possiamo avere pace ma ci basiamo nell'opera di Cristo attenzione compiere la salvezza con timore e tremore non è la stessa cosa che avere paura del giudizio è tutta un'altra cosa la salvezza non è fondata su il nostro impegno la salvezza è fondata sull'impegno completo di Gesù Cristo che ha compiuto sulla croce e nella risurrezione il timore e tremore è quel timore e tremore giusto che ci spinge a impegnarci nella santificazione per avere chiaro frutto della salvezza salvezza che Gesù Cristo ha compiuto ma la nostra speranza non è nel nostro impegno la nostra speranza è totalmente in quello che Gesù Cristo ha fatto perché tu dici essere credente perché Gesù Cristo ha pagato per me ma tu sei creduto come osi dire che tu vai in cielo perché Gesù Cristo ha pagato i miei peccati se tu dici e quindi non con le parole ma con la vita e quindi non importa come vivo allora lì non hai frutti di salvezza però quando ci basiamo totalmente sull'opera di Cristo non abbiamo paura del giudizio finale infatti in primo Giovanni 4 18 parla proprio di quello quando dice nell'amore non c'è paura anzi l'amore perfetto caccia via la paura perché la paura ha a che fare con la punizione e chi ha paura non è reso perfetto nell'amore quindi mentre dobbiamo impegnarci con timore e tremore per compiere la nostra salvezza per crescere nella santità non dobbiamo avere paura del giudizio piuttosto dobbiamo porre tutta la nostra speranza in Gesù Cristo e vedere Gesù come la nostra giustizia quindi la vita cristiana è una vita di gioia e di pace confidando totalmente nell'opera completa di Gesù Cristo guardando Gesù Cristo possiamo abbondare nel ringraziamento per quello che Gesù Cristo ha fatto per noi ma allo stesso tempo la vita cristiana è un cammino in cui abbiamo il timore e il tremore giusto davanti a Dio riconoscendo che è essenziale che ci impegniamo noi con timore e tremore che ci perseveriamo per avere chiaro frutto della salvezza che Dio ha compiuto in noi le verità in questo versetto 12 sono estremamente importanti e chi ignora le verità qui chi non si impegna con timore e tremore chi non si sforza a rendere chiaro la salvezza è quasi sicuramente non salvato per quanto può essere in chiesa da anni partecipare può predicare può prendere la cena può evangelizzare ma se non si impegna non c'è frutto di salvezza però leggendo solo quello potrebbe farmi sentire schiacciato potrei dire ma non so non so potrei avere timore non ce la faccio potrei avere timore allora arriva dopo versetto 12 versetto 13 che c'era un'immensa consolazione e voglio leggere 12 e 13 insieme perciò miei cari come mi avete sempre obbedito non solo quando ero presente ma molto più ora che sono assente compite la vostra salvezza con timore e tremore poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito grazie a Dio grazie a Dio per questa verità certamente versetto 12 ci esorta ad impegnarci a compiere la nostra salvezza con timore e tremore rende chiara la salvezza ma il versetto 13 ci dichiara una verità immensa estremamente incoraggiante questa verità può darci grande gioia incoraggiamento e può anche proteggerci dall'orgoglio come abbiamo visto noi dobbiamo impegnarci con tutto il nostro cuore a compiere la nostra salvezza con timore e tremore però dobbiamo anche tenere in mente costantemente che è Dio che è in noi operando il volere e l'operare della nostra salvezza e questo Dio fa per il suo bene placido in base alla sua bontà noi dobbiamo impegnarci con timore e tremore però possiamo avere grande pace facendo questo ricordando che Dio è all'opera in noi allora prima di tutto dice che Dio opera in noi il volere cosa vuol dire? vuol dire che Dio ci dà il volere Dio mette in noi un desiderio di avere più di Cristo il desiderio di camminare in santità il desiderio di essere più in comunione con Dio e vivere per la sua gloria nella carne questo non è il nostro volere l'uomo nella carne ha un volere un desiderio contrario alla volontà di Dio leggo Romani 8 5 a 7 infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne ma coloro che sono secondo lo spirito alle cose dello spirito infatti la mente controllata dalla carne produce morte ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace per questo la mente controllata dalla carne è inemicizia contro Dio perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo è importante capire che l'uomo naturale è schiavo del suo peccato non può veramente voler vivere per Dio è Dio che opera in noi il volere il desiderio di vivere per Dio il desiderio della santificazione per la santificazione grazie Dio per questo di natura siamo ribelli di natura siamo ribelli contro Dio grazie a Dio che ci cambia il cuore grazie a Dio non solo quando ci salva ma durante la vita quante volte se tu sei onesto tu riconosci quante volte il tuo cuore si raffredda quante volte il tuo amore per Dio non arde grazie a Dio che Dio opera dandoci il volere grazie a Dio poi dice che Dio opera anche l'operare in greco sono due forme della stessa parola verbo sostantivo Dio opera l'operare l'operare è la capacità spirituale di poter vivere la vita cristiana attenzione senza l'opera di Dio l'uomo naturale non può piacere a Dio non può compiere le vere opere per Dio è spiritualmente morto la nostra capacità viene da Dio però non è solo che al momento della salvezza Dio ci dà questo potere e ci lascia perché adesso possiamo fare in noi no giorno per giorno anno per anno Dio continua ad operare in noi sia il volere che l'operare dandoci la forza spirituale la capacità la potenza di poter vivere per Cristo confrontiamo quello questa capacità di vivere per Cristo con quello che Paolo dice in Romani 7 in Romani 7 14 cosa è alla fine Paolo parla di sé stesso appena prima della salvezza quindi non è la vita di un credente è quello che Paolo era da quando Dio ha cominciato ad aprire gli occhi e lui voleva Dio ma ha capito che non poteva e notate che non aveva la capacità di fare il bene che adesso abbiamo perché di opera e noi operari leggo Romani 7 18 infatti io so che in me cioè nella mia carne non abita alcun bene poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene ma io non trovo il modo di compierlo non trovo la capacità di compierlo invece un credente può fare il bene è per quello che Dio ci ha salvati affinché portiamo così dice Gesù molto frutto Gesù dice che voi potete compiere molto frutto possiamo fare il bene senza Cristo no con Cristo sì Paolo in quel brano in Romani 7 non sta parlando della sua vita da credente un credente non può dire veramente non trovo modo di compiere il bene in Cristo troviamo modo quella è preconversione grazie a Dio perché Dio è Dio opera in noi il volere e l'operare grazie a Dio infatti così dice Efesini 6 10 del resto fratelli miei fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza io posso essere forte nel Signore e nella forza della sua potenza perché Dio opera in me in te che sei credente l'operare quindi io ringrazio Dio per questo io ringrazio Dio che il mio cuore che sarebbe come una calamita verso il peccato Dio opera in me in te che sei credente il volere e anche l'operare questa verità ci aiuta grandemente in due modi prima di tutto è un immenso incoraggiamento se guardiamo solo a noi stessi se un credente onestamente guarda se stesso alle sue cadute alle sue capacità sarebbe abbattuto sono caduto ancora non ce la faccio questo sarebbe un resoconto onesto di noi stessi ma non bisogna guardare solo a noi stessi bisogna guardare a Dio e quando io vedo la mia debolezza ma poi dice però tu operi in me il volere e l'operare che immenso incoraggiamento grazie a Dio che immenso incoraggiamento inoltre ricordare costantemente questa verità ci protegge dall'orgoglio cioè se capita che per grazia camminiamo bene c'è una stagione che stiamo andando avanti compendo la nostra salvezza e c'è buon frutto la tendenza umana anche in quei momenti c'è l'orgoglio che voglio alzare la testa dicendo vedi quanto bene sto camminando ma se ricordo perché tu operi in me il volere e l'operare allora mi aiuta a rimanere umile che è l'unico modo di rimanere vicini a Dio quindi è importante ricordare che dobbiamo noi compiere la nostra salvezza con timore e tremore ricordando però che è Dio che opera in noi il volere e l'operare quindi questo capitolo finora ci ha mostrato tre motivi per vivere la vita cristiana primo motivo il conforto in Cristo la consolazione in Cristo la comunione dello spirito in Cristo la comunione la compassione e tenerezza tutto in Cristo secondo ricordando l'immenso sacrificio di Cristo che ha lasciato la gloria per diventare uomo umiliandosi per andare alla croce per noi e terzo quello di oggi che Gesù Cristo ritornerà ora in gloria non più umilmente ritornerà per giudicare dobbiamo comparire davanti a Lui per rendere conto di come abbiamo vissuto oggi e ogni giorno nella carne e vogliamo non essere vergognati ma vogliamo sentirlo dire ben fatto il mio servo fedele entra nella gioia del Tuo Signore per tutta l'eternità non dobbiamo tubarci la salvezza è compiuto in Gesù Cristo ma dobbiamo compiere la nostra salvezza nel rendere chiaro la nostra vocazione e le lezioni dobbiamo compiere la santificazione sapendo che Dio opera in noi il volere e l'operare oh che queste verità possono guidare i nostri pensieri le nostre vite i nostri cuori grazie a Dio che Egli opera in noi viviamo pienamente per Lui con timore e tremore aspettando e affrettando il ritorno di Gesù Cristo preghiamo Padre nostro Santo Dio quanto spesso siamo legati ai pensieri legati al mondo e dobbiamo vivere qui ma vogliamo vivere con gli occhi in avanti vedendo Gesù Cristo vogliamo vedere Gesù Cristo che è morto per noi vogliamo vedere i benefici che abbiamo in Cristo in questo cammino in questo pellegrinaggio e vogliamo vedere il ritorno di Cristo vogliamo aspettare e raffrettare quel giorno e vogliamo vivere sapendo che dobbiamo comparire davanti a Lui e quindi vogliamo vivere gioiendo che Lui ha pagato tutto ma compendo la nostra salvezza con timore e tremore però riposandoci sulla grande verità che Tu operi in noi il volere e l'operare e perciò possiamo camminare senza timore senza paura aggrappandoci al nostro grande Signore e Salvatore Gesù Cristo facci vedere la gravità di ogni nostro peccato proteggici da un cuore raffreddato che non vede la gravità del peccato facci vedere più di Gesù Cristo ti prego aiutici a perseverare quando ci sono tanti altri che ci stimolano e quando siamo soli grazie per Gesù Cristo nel Suo nome ti prego Amen Grazie a tutti